buon pomeriggio cari amiche cari amici qui in lombardia qui a milano pomeriggio molto piovoso piove forte a milano la gradazione del terreno secondo il penetrometro di san siro è circa 5 6 tra il pesante e il molto pesante una partita che inizierà stasera alle 20 45 arbitro signor massa ma vi ho promesso ieri nel mio video galvanizzante per me spero anche per voi per quello che riguarda tutto nato dalla notizia che benassere vicinissimo alla firma ebbene vi ho promesso di parlare molto rapidamente delle partite di ieri la juventus che riesce ancora nel finale attaccata addirittura ci ha superato di un punto una cosa clamorosa se pensiamo alle difficoltà che ha avuto la juventus per tutto il girone di andata adesso averla davanti mi sembra veramente incredibile però quando tu non subisci gol per 800 minuti vinci sette partite consecutive e otto partite consecutive beh beh chapeau il milan ha avuto il due passi un passo falso anzi direi due passi falsi perché cremona anche se milano ha portato casa un punto è un passo molto falso anche se la cremonese ha giocato molto bene anche con la juventus col torino però ragazzi erano figlie erano figlie di degli impegni di coppa il milan si giocava tutto col salisburgo e la dinamo zagabria e in quelle in quelle partite in quelle partite il milan è stato prosciugato prosciugato sul piano mentale sul piano fisico e quindi non ha potuto rispondere in campionato come avrebbe voluto e quindi quelle due partite fanno sì che tutto il vantaggio del milan si sia assottigliato però questo è il passato il milan ha ripreso bene ha vinto con la fiorentina ha vinto con lo spezia attaccato al risultato ha vinto benissimo a salerno non leggete sofferenza nelle dieci minuti di sofferenza erano sofferenze figlie del risultato non della prestazione mi hanno avuto altre tre occasioni per chiudere la partita sorpresa l'inter l'inter ed è un risultato importante per il milan e sarà ancora più importante se il milan riuscirà a battere la roma vorrebbe dire di staccare l'inter non di cinque punti quindi real riallungare sull'inter che d'altra parte ha perso punti importanti all'inizio della della stagione il c'è di mezzo però la roma il pareggio dell'inter indubbiamente è un pareggio che non non se lo aspettavano i tifosi nerazzurri non era nella tabella immaginaria di marcia del club nerazzurro quindi il milan deve approfittare contro la roma che è una squadra ostica giocherà molto molto davanti al suo portiere in tentando poi dei contropiedi coi suoi campioni là davanti servirà un grande milan un milan che schiererà forza lotta vincerai sotto la pioggia saremo in 70 mila questi serate di pioggia che mi ricordano il 19 aprile 89 milan real madrid 5 a 0 che mi ricordano la vittoria nella partita perfetta 3 a 0 sul manchester speriamo che questa pioggia che noi chiamiamo manzoniana porti via a tutti gli le stanchezze accumulate nel match contro la salernitana e la pioggia ci possa portare un'altra grande serata ci auguriamo che sia proprio così dicevo milan che conferma la formazione non per adesso non ci sono novità e sorprese il milan è arrivato stamattina al solito melià l'albergo non lontano da piazzare lotto e quindi non lontano da san siro con dunque tatarusano in porta e attenzione alla sorpresa vasquez forse già contro il torino vedremo a destra calabria a sinistra giocherà teo hernandez calabria che ritorna dopo tanti mesi a milano da capitano dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori un mese e mezzo ma poi ci sono stati anche i mesi del mondiale quindi è una vita che non vediamo calabria a milano capitano a sinistra teo hernandez caloluto mori centrali tomori contro il pericolo abram quindi un giocatore che i loro si conoscono bene sono nati insieme nel celsi quindi due fratelli contro oggi benasser galvanizzato dal dal nuovo contratto tonali che dovrebbe firmare nei prossimi giorni addirittura domani dopo prima magari della partita col torino di coppa italia a destra se le me cares a sinistra gioca gioca leao e poi ne parleremo del suo rinnovo diaz diaz uno mi ha detto sempre molto educati c'è modo e modo io non riesco non mi rassegno signori non mi rassegno a chi mi dice se qualcuno mi dicesse non sono d'accordo con te diaz per me è un giocatore scarso e non fa la differenza è un modo ovviamente di di un'opinione che rispetto a me è piaciuto moltissimo tra le linee a un altro mi dice che è scarso voglio dire rispetto l'opinione e poi se diaz gioca una brutta partita la dico magari un altro gli è piaciuto nessun problema ma chi dice per esempio posa il fiasco diaz è scarso sul diaz è scarso rispetto ma cosa vuol dire posa il fiasco parte il fatto che è sfigato quello che mi dice una roba del genere perché sono a stemio quindi eppure sfortunato perché oltretutto io non bevo è un modo di parlare un modo di dire non è certo il linguaggio di pietro bembo non è un linguaggio elegante qualcuno mi dice ma è il linguaggio dei social non mi rassegno al fatto che uno possa dire no carlo io non sono d'accordo con te per me diaz è un giocatore che non rende io ne penso al contrario quando è così in forma c'è modo e modo posa il fiasco pensate il livello intellettuale che mi dice posa il fiasco detto questo non mi rassegno a questo modo poco educato alla maleducazione tanto che magari poi è uno che se mi vede vuole anche la foto quindi voglio dire e stavo dicendo quindi diaz e là davanti olivier giru olivier giru che vuole farsi un po' perdonare gli errori contro la salernitana e c'è la canzoncina che vorrei dedicare gli speriamo questa sera intorno alle 22 30 22 45 di poterla tutti insieme cantare la mia il mio arrangiamento la mia il mio la mia la mia versione di una canzone molto famosa dedicata a olivier giru torniamo al discorso benasser il discorso benasser c'è una voce vi dico che è una voce non è una notizia che sembra che la clausola nell'accordo possa essere portata a 60 milioni così si tranquillizzano un po di più perché anche se fosse 200 milioni ci sono quelli che si agitano perché vuol dire che il giocatore andrebbe via subito no 60 milioni anche perché è un giocatore che ha portato il suo ha portato il suo contratto fino a 2027 non mi sembra che abbia intenzione di accettare le offerte perché sapete come funziona la clausola una squadra può portare i 60 milioni o i 100 i 120 ma se il giocatore non è d'accordo il giocatore rimane dov'è dove dove se non si muove dicevo di benasser quindi chiudiamo la questione benasser aspettiamo speriamo domani dopo domani che ci sia la chiusura del come mi è stato anche confermato come trapelato dal milan non mi è stato sufficiente la pur indiscrezione dei colleghi ho voluto verificare io perché ci sono tante indiscrezioni ci sono tante suggestioni ma veniamo le a o le a non mi voglio sbilanciare perché sennò poi arriveranno gli strali di quelli che non dimenticano nulla dico solo che le voci rumors parlano di un giocatore che abbia intenzione di firmare sono voci che arrivano da amici degli amici quindi sono voci non dal milan oppure non controllate personalmente è una sensazione che abbiamo sempre avuto c'è questa voce di amici degli amici che dicono che lui voglia firmare e il fatto che ci sia già il papà che stasera assiste al match e soprattutto domani o dopo domani all'inizio della settimana ci sarà l'arrivo di ted in v là fa pensare che possono essere giorni importanti anche lì verificherò se sono solo colloqui ancora interlocutori però andando avanti quei colloqui interlocutori poi un passo avanti o un passo indietro deve esserci per risentirsi e dire le stesse cose precedenti quindi aspettiamo adesso il mio titolo adesso tocca le aos forza le aos speriamo se è vera questa notizia che lui abbia intenzione di firmare se è vera la notizia degli amici e degli amici speriamo di poterlo chiudere per quello che riguarda il mercato per adesso non c'è nulla di nuovo aspettiamo vasquez e aspettiamo vasquez vediamo oggi si è allenato si allenerà domani se darà una darà risposte confortanti per poter osare e metterlo subito in campo contro il torino se non si ha fiducia in tatarusanu se è stato preso vasquez vuol dire che il milan si sta guardando intorno oggi ho letto anche che sportiello milan potrebbe insistere per sportiello subito leggo rimangono i miei dubbi su questo su questa questione perché non credo che sportiello che non credo che sportiello possa essere così lasciato libero dall'atalanta che in questo momento ha sempre i problemi con un musso che è un po un po ondivago anche lui un po alterno per quello che riguarda le condizioni fisiche non non è non è un giocatore a livello fisico di che da che possa garantire continuità tanti piccoli problemi e quindi l'atalanta si cautela con sportiello vediamo e vedremo se ci possano essere evoluzioni ma ieri parlando dal milan trapela che non ci sia tutta questa voglia di correre dietro al portiere saranno importanti domani e dopo perché tornano orighi da quello che si dice messias soprattutto orighi perché almeno il milan entra in uno spartiacque o andare sull'attaccante oppure chiuderla oppure andare avanti con gli stessi e abbiamo parlato e hanno parlato tutti di maratona fino a marzo la maratona se si può ogni tanto fermarsi e bere dell'acqua cioè avere delle riserve di acqua fresca come possano essere orighi messiasi e rebic sarebbe meglio altrimenti si arriva al quarantesimo chilometro con un po di fatica lo dico senza aver mai partecipato a una maratona lo immagino lo immagino comunque concentriamoci sulla partita di oggi di questa sera 20 e 45 importantissima la juventus è in questo momento è addirittura davanti un punto l'inter ha in ogni caso recuperato e a due punti perché ha recuperato un punto pur pareggiando quindi deve esserci la risposta del milan in attesa le 18 anche della parita del napoli con la sampdoria quindi una giornata molto importante come saranno tutte ma certamente questa un pochino forse di più se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegati attivate la campanella e dal link in descrizione scaricate numero 10